Allora sicuramente voi avrete visto, visto, rivisto, rivisto appunto questo presunto meme anche se io non lo tratterai tanto come meme dato il background che c'è all'interno e anche il contesto che c'è nell'effettiva clip però lasciamo perdere questa mia piccola impressione sappiamo benissimo che nelle nomination, in una nomination dell'Oscar che c'è stato di recente non mi ricordo come si chiamava però sicuramente chi è più informato lo saprà c'è stata appunto l'apparizione di Chris Rock, noto appunto come diante, comico, chiamatelo come volete di fama internazionale che così gli è venuto in mente siccome appunto Will Smith c'era nelle nomination e ha fatto una battuta appunto che onestamente detta tra l'altro in diretta internazionale non lo direi infatti se non ricordo male è stata tagliata questa parte questa parte effettivamente dopo che è finito tutto quanto è stata tagliata però i freebooter sapevano che questa cosa qua sarebbe stata una cosa molto molto meme e giustamente, giustamente aggiungerei, hanno clipato questa cosa, l'hanno messa su YouTube questo molto probabilmente andrà su YouTube dato che, comunque, è prima vi dovete contestualizzare con il canale dato che Will Smith c'è stato un periodo dove lui faceva il rapper ha fatto il rapper per 10-15 anni adesso negli ultimi anni, giustamente, ha cercato di seguire molto di più un'altra sua passione che è quella della recitazione quindi non soltanto andare dietro alla musica e oltretutto non ha fatto anche canzoni che sono rimaste nella storia vabbè, a parte la colonna sonora portante della saga Man in Black Man in Black appunto la canzone poi Miami ha fatto anche l'opening song di una sua serie di debutto ovvero il principe di Bel Air se non sbaglio si chiamava così la serie G.I. Jane 2, can't wait to see it all right it's jealousy, that was a nice one, okay I'm out here, uh oh, Richard oh wow wow Will Smith just smacked the shit out of me keep my wife's name out your fucking mouth wow, dude it was a G.I. Jane jump keep my wife's name out your fucking mouth I'm going to, okay so I can, oh, okay that was a greatest night in the history of television okay vabbè io al posto tuo non ci avrei riso così tanto perché anche lui ha fatto la sua parte comunque vabbè, io vi dico subito che mi sono un po' preparato una cosa che volevo dire a video però ho detto, sapete che c'è siamo in live, diciamo tutto qua senza filtri, senza niente però io so io so ben certo che uno dei tanti cioè no, il motivo numero uno perché sua moglie appunto è pelata è per via di una malattia che mi scordo sempre il nome comunque un nome un po' strano da pronunciare però comunque per via di una malattia se tu non vivi una roba del genere non ti puoi permettere di ironizzare su queste cose o me, attenzione attenzione, attenzione ribadiamo la cosa raccomentiamo un po' non puoi permetterti di farlo in diretta e internazionale soprattutto in un evento così tanto importante per la storia del cinema ovvero degli Oscar non puoi farlo e infatti ragazzi la cosa bizzarra allora non dico che non si sarebbe dovuto meritare l'Oscar molti hanno detto no, per quello che ha fatto non avrebbe dovuto farlo eccetera 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 io su questo ragionamento qua sono totalmente contrario sono contrario a questo ragionamento perché qui non si parla di Oscar per persona si parla di Oscar per attore come interpretazione lui non sta interpretando niente e tra l'altro se voi vi ricordate che mi segue su Instagram ho fatto un post abbastanza cazzoso incazzato tra virgolette però non verbalmente scritto dove dicevo si vede palesemente che è fake perché oddio adesso ho perso il video non posso farvi vedere che a un certo punto quando lui torna a sedersi la videocamera lo inquadra e che guarda verso la sua destra come per dire ragazzi sto al gioco eh sto al gioco quel cazzotto quello schiaffo quella pappina che gli ho dato era falsa eh tranquilli quindi sembra un po' che si stesse mettendo a ridere da quel che è stato detto da Will Smith non era fake cercherà di migliorare questa cosa qua e lui ha detto anche che è stata anche una cosa voluta per mano della moglie attenzione perché lui se voi avete visto lui stava ridendo lui stava ridendo stava al gioco se non ci fosse stata sua moglie lì tutto questo non sarebbe mai successo qui però scusate se vi dico non l'ha rispettato perché obiettivamente ironizzare sulla calvizia di qualcuno però una calvizie neanche voluta dalla persona per via di malattie ovviamente è brutto non ti puoi azzardare a farlo soprattutto in diretta in diretta infatti riprendendo quello che stavo dicendo prima ma dopo mi ero incartato su un altro dettaglio Will Smith stava ridendo poi ha visto che lei l'ha presa malissimo infatti si vede anche in faccia dopo lui si alza senza il consenso di nessuno ovviamente gli ha dato il ceffone allora però io mi vorrei chiedere una cosa ma c'è una security primo c'è una security là a me non me ne feria un cazzo se lui era in nomination quello che ha fatto nonostante ci sia un po' una mezza antitesi in quello che sto dicendo ovvero che loro lo dovevano bloccare lui non doveva fare al suo tempo questa cosa però col senno di poi Chris Rock non doveva dire questo ma nonostante ciò lo dovevate fermare lo dovevate fermare perché è brutto comunque è brutto comunque io posso capire che magari lui essendo sposato con lei avendo lei come moglie comunque è una sua responsabilità prendersi cura di lei anche dei suoi sentimenti quindi andiamo contro quello che fa stare male questa persona ancora più uomo è stato Chris Rock che nonostante quanti giorni sono passati 4 o 5 da quel che noi abbiamo visto prima da youtube lui non ha aperto bocca lui non ha aperto bocca è un bene ma un male sia un bene che un male vuol dire che comunque lui ha deciso di non contribuire a questa cosa qua tirando che ne so frecciatina a Will Smith anche rispondendo ad alcuni articoli sono stati fatti ma allo stesso tempo non ha accettato il fatto che colui che in realtà ha fatto iniziare tutto questo è lui cioè avete presente il termine oltre al danno la beffa Chris Rock ha fatto il danno quello che ha fatto il beffa è stato Will Smith punto punto il mio parere è questo il mio parere è questo il mio parere è questo ragazzi non 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 si possono dire robe del genere non si possono dire robe del genere se non contestualizzate poi io prima avevo parlato anche di persone che stanno da una parte che stanno dall'altra io ho visto tutta quanta la sua famiglia che gli stava vicino la moglie il figlio anche Jaden Smith e tutto fa anche il red per lui oltre all'attore ragazzi l'abbiamo visto in Karate Kid se non sbaglio Karate Kid si chiamava però non quello anni 80-90 quello inizio 2000 no inizio 2000 no era troppo giovane comunque 2000-2010 essendo ovviamente capo famiglia la persona numero uno Will Smith non dico non cazzo non dico un cazzo ragazzi questa è anche un po' la fortuna o al stesso tempo sfortuna di avere fama ovvero che ok tante persone che ti possono supportare ma da quel supporto non possono farti arrivare a un ragionamento del tipo ok ho sbagliato questo è questo è però si è conclusa in tre giorni si è conclusa in tre giorni io sto parlando a distanza di due giorni perché comunque volevo esprimermi al riguardo siccome sono un canale divulgativo e quindi ragazzi ecco qua la mia opinione ecco qua un po' un po' Grazie a tutti